Ehi ma bella raga, ben ritrovati qui sul canale di Lubansky, qui per parlare della 2v8, vi dico un po' quello che penso riguardo a questa modalità che da qualche giorno è su Dead by Daylight e ho potuto giocarla solo di recente perché sono stato in vacanza. Quindi ne parliamo accuratamente, voiceover sopra questo video partita dove appunto gioco Antres in compagnia di un mio amico che invece gioca Nurs e mi raccomando prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare un bel like al video per supportare il video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di passarci a trovare su Twitch. Ci trovate in live quasi tutti i giorni, soprattutto fascia pomeridiana dalle 15 alle 20, 20 e 30. Detto ciò, parliamo un po' di questa 2v8, una modalità secondo me molto interessante, tanto di cui parlare cercherò di essere breve, il più possibile. Allora, partiamo dall'aspetto positivo di questa modalità. Allora, i Dead volevano creare una modalità alternativa, divertente, con cui far svagare i giocatori e dargli anche un po' di respiro, una boccata di era fresca rispetto alla pubblica normale e secondo me ci sono riusciti. La modalità risulta divertente, estremamente dinamica, molto divertente, lato serve ma soprattutto lato killer. Quindi hanno centrato in pieno l'obiettivo, secondo me, da questo punto di vista. Bravi developers, bravi sviluppatori, da questo punto di vista sono assolutamente molto soddisfatto. Passiamo poi ai lati negativi o semi-negativi. Allora, innanzitutto, l'aspetto che risalta più all'occhio di questa modalità qual è? Il fatto che il matchmaking da killer sia lunghissimo. Questa è la lamentela che ho sentito più in giro ed è assolutamente giustificata perché comunque per trovarti una partita da killer devi aspettare tra i 15 e i 25 minuti. Poi dipende dalle fasce orarie, se giocate con un amico dovrebbe essere un po' più veloce, ma insomma, l'attese sono veramente lunghe e spesso la lobby, l'attesa della partita dura più della partita stessa. Quindi questo chiaramente non è positivo. Però bisogna spezzare una lancia in favore dei developers, non è colpa loro. Cioè, questo era inevitabile purtroppo, ragazzi, dato che per riempire una lobby di questa modalità servono otto sopravvissuti e solo due killer. E vi assicuro che tanti preferiscono giocare killer che sopravvissuti, per diverse ragioni. Innanzitutto, la prima è che la vera novità, la vera figata di questa modalità è che puoi giocare per la prima volta su Dead by Daylight con un tuo amico da killer. Cioè, questa è la cosa fighissima e... è troppo divertente. È veramente divertente giocare killer con un amico, quindi è normale che ci sia tanta richiesta per giocare killer e questo crea delle code veramente devastanti. Ma veramente devastanti. Quindi, da questo punto di vista, non ci si poteva fare nulla. Anzi, i dev hanno cercato di venire incontro a questa cosa mettendo un incentivo molto importante per chi gioca sopravvissuto, del 400%, ai punti sangue. Chiaramente questo non basta, perché è normale. Cioè, chi gioca a questa modalità non è interessato ai punti sangue. Quindi, cambia veramente poco questo incentivo, chiaramente, ma soprattutto quello che hanno fatto è stato togliere un sistema di bilanciamento del matchmaking, della ricerca della partita. Quindi, puoi trovarti contro davvero chiunque. Gente brava, come gente invece che ha iniziato da due giorni. Questo sicuramente è un aspetto non positivo, perché chiaramente va ad inficitare tremendamente il bilanciamento delle partite. Dove, chiaramente, se la maggior parte di chi becchi ha pochissima esperienza sul gioco, viene malamente devastato. Soprattutto se ha a che fare con giocatori che invece sanno il fatto loro da killer. E questo, purtroppo, ha dato a tanti anche l'impressione che la modalità fosse killer side, sia killer side. Su questo ci possiamo anche ragionare, ragazzi, ma è inutile, perché non è l'obiettivo della modalità. Cioè, chi si aspettava di giocare una modalità 2 vs 8, che sarebbe stata anche bilanciata, ragazzi, siete degli illusi, cioè ve lo dico senza mezzi termini. A momenti non è bilanciata la 4v1 in pubblica, ma vi aspettavate veramente che questa sarebbe stata bilanciata. Cioè, ma non scherziamo. Poi, se è bilanciata più in favore dei killer o più in favore dei server, ragazzi, non è importante, ma perché non è lo scopo di questa modalità. Questa modalità, l'obiettivo, è la caciara, la frenesia, il casino, divertirsi, cioè nulla di più, cioè non è importante chi vince. Cioè, non è tanto quello. D'accordo, quindi è un discorso quello di surfside killer side, secondo me è estremamente noioso ed estremamente inutile per quanto riguarda questa modalità. E' più un discorso portato avanti da chi tende sempre a lamentarsi di qualsiasi cosa su questo gioco. E qui, chiaramente, io ci voglio arrivare, purtroppo mi tocca dirlo, sono anni ed anni che gioco a Dead by Daylight. Io gioco da fine 2017. Ragazzi, a questa community, a tanti, non gli va bene niente. Quindi sono sempre dei perenni insoddisfatti. Quindi, lasciate perdere chi si lamenta della modalità perché killer side e surf side sono polemiche stupide, sterili, infantili e che non hanno senso. Tra l'altro, se posso spendere 2 cent a riguardo del bilanciamento, signori, una mutateria da 2v8 dovrebbe essere sbilanciata in favore dei surf tremendamente. Se non lo è, è perché, per i problemi che vi ho detto prima, non c'è bilanciamento del matchmaking, quindi è molto più facile che su 8 surf la maggior parte siano di livello basso. Quindi se i killer invece sono bravi e vi scocciano, c'è poco da fare. Ma non è perché è la modalità in sé che è bilanciata in favore dei killer, è che è sbilanciato il matchmaking, d'accordo? Però, detto questo, che è comunque un discorso abbastanza noioso, la modalità, ripeto, funziona. Questa problematica del matchmaking killer è davvero un peccato, ma, ripeto, era inevitabile. Per il resto, ho trovato i vari killer carini, simpatici, le sinergie sono simpatiche. Quello che ho trovato più divertenti sono soprattutto Mandriano e Wraith, dove va in giro col Wraith, arriva il Mandriano che mette expose dai surf e col Wraith li stendi. Oppure Antres e Nurs, tra virgolette Antres e Nurs dovrebbe essere la combo che mi è sembrata più forte in assoluto. Però anche qui, ragazzi, non è importante, cioè, trovare il meta della modalità, ma chi se ne frega, ripeto, è comunque fatta per divertirsi. Tant'è che io ho giocato tanto Antres, perché a me l'Antres è uno dei miei killer preferiti, se non il mio preferito. E avere una modalità dove, praticamente, ogni tiro che faccio mi fa vedere le aure e ho la possibilità che anche l'altro compagno di squadra mi fa vedere. Sto sempre a vedere le aure dei surf, provare i tiri a distanza mi diverte veramente troppo. Comunque ho notato che è una combo Antres e Nurs usata molto. La Nurs si ritrova tanto spesso nelle partite, come anche l'Antres. Secondo me hanno fatto un errore, per quanto mi riguarda, hanno fatto un errore a mettere la Nurs in questa modalità, perché è un killer troppo forte. Quindi è normale che tanti lo picchino, lo scelgano, è normalissimo. Personalmente avrei evitato di mettere la Nurs, se devo essere onesto. Però c'è da dire che volevano mettere i killer Baskit in modo tale che chiunque potesse giocarci. Ed inoltre, lo capisco da questo punto di vista, togliere un ulteriore killer ai già pochi killer presenti per questa modalità, che ripeto sono i primi cinque, avrebbe reso ancora più ridondanti le partite, chiaramente. Per il resto sono abbastanza tutti divertenti, io l'ho provato un po' tutti, sono molto simpatici da giocare, giocare con gli amici è super divertente. Ho trovato tanto interessante, soprattutto il lato sopravvissuto, la cosa che ho trovato più interessante è il concetto della classe. Il concetto della classe con le varie skill allegate. E non riesco a non vederlo anche come un piccolo esperimento da parte dei dev, per quanto riguarda magari un nuovo concept, che potrebbe in futuro arrivare su DBD, per cambiare il concetto del loadout, che attualmente si basa tutto sui perk. Sui perk, l'oggetto che porti è gli add-on. Il concetto di classe, chissà, non lo vedo come un qualcosa che un giorno potrebbe soppiantare al 100% il loadout con i perk, ma potrebbe essere un'implementazione molto interessante per magari rendere ancora più personalizzati e soprattutto differenziati i sopravvissuti. Che magari ci sono dei sopravvissuti, i vari sopravvissuti appartengono a classi diverse e quindi dare maggior importanza se si picca un sopravvissuto rispetto a un altro. Chissà, lo scopriremo. Comunque, detto questo, ragazzi, questi sono i miei pensieri su questa modalità. Molto figa, peccato per alcuni bug, soprattutto relative alle mappe, ma per il resto, per quanto mi riguarda, assolutamente promossa e divertente. Detto ciò, passateci a trovare quando volete su Twitch, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, raga!